E vai! Ciao bellezze! In casa truccavo, facevo i capelli, i boccoli e le liner, ma tutte quando sono uscita mi avete chiesto, ma tu Leti, come ti trucchi? Vi faccio vedere! Oh nipotini belli, questa è la zia di Chiara Ferrani che fa i video sul grande fratello, c'è un po' di casino con questa generologia, le parentele, ma non importa! Iscrivetevi lo stesso a questo canale per vedere altre session di trucco, allora io devo dire che sto prendendo lezioni perché col trucco sono negata da sempre, adesso che ho una certa età mi servirebbe anche di più perché la mia pelle al mattino è grigia come un tocco de cemento detto in Veneto, però niente non riesco a farmi piacere il trucco, devo dire che Letizia Petris ha una pelle fenomenale, puoi mettere anche, pittarla di verde che lei è bella comunque, infatti vedete il risultato? Vabbè adesso è una fatalona, mi lascio così, ciao!